Ciao a tutti ragazzi, oggi parliamo del nuovo Garmin 4Runner 265. Andremo a vedere il suo nuovo display AMOLED e soprattutto risponderemo alla domanda vale veramente spendere 500 euro per questo orologio? Inizio subito facendo una premessa. Non sarà una recensione classica di un orologio perché questo orologio è per tutto simile al 255 e tolto naturalmente il display e ha un altro piccolo e cosine che adesso andremo a vedere. Quindi non parleremo di GPS, come funziona, non parleremo di frequenza cardiaca eccetera perché essendo i sensori uguali o identici al 255 vi lascio qua in alto a destra la recensione del 255 andate a guardare quella. In questo video ci concentriamo sulle differenze, sulle novità che sono state riportate in questo 4Runner 265. E naturalmente iniziamo dallo schermo. Io ho un modello da 46 mm perché esiste anche un modello da 42 un pochino più piccolo. In questo caso lo schermo è grande 1.3 pollici con una risoluzione di 431x431 e vi assicuro è uno schermo AMOLED veramente molto molto bello. La differenza rispetto a un modello precedente come il 255 si sente e davvero è molto bello. Ma questo schermo porta veramente dei benefici? Secondo me sì. Sì perché comunque abbiamo uno schermo molto più definito, abbiamo uno schermo su quale possiamo vedere molto meglio i dati, è anche molto più utilizzabile come orologio perché i colori sono molto più vividi, molto più belli. In generale comunque si vede la differenza rispetto a un 255 normale. L'aspetto che più mi è piaciuto poi sono tutte le grafiche perché naturalmente con uno schermo AMOLED Garmin è andata insieme delle grafiche molto carine. Ad iniziare ad esempio da quella quando accendiamo l'orologio che risulta essere veramente molto carina. Tutte le grafiche quando andiamo a muoverci all'interno dell'orologio, quando passiamo da una schermata all'altra, anche lì molto belle. Una cosa che poi ho notato è che in sé l'orologio è molto più fluido rispetto anche, faccio un esempio a un Fenix 7 e a un Apex 2. Non si impunta, non ha lag, davvero possiamo metterlo sotto stress e veramente non ci sono nessun tipo di impuntamento. La cosa non so spiegarmela perché non so di preciso se Garmin abbia aumentato la RAM o cambiato il processore interno perché questo non è dato a saperlo dal sito Garmin. Però vi assicuro che è veramente molto fluido. Lo schermo poi naturalmente ha anche i suoi ma. Il primo ma numero uno è quando andiamo a utilizzarlo sotto il sole perché veramente abbiamo un sacco di riflessi e soprattutto se poi va in protezione, quindi abbassa un po' la luminosità, è davvero difficile vederlo quando siamo in pieno sole. In compenso però andando ad aumentare la luminosità massima diciamo che un pochino va a migliorare, però comunque riflessi ci sono e ce ne sono tanti. Sempre per quanto riguarda lo schermo, in questo caso non l'abbiamo ma sarebbe davvero utile molto probabilmente con delle mappe. Naturalmente non c'è sulla linea Forerunner la mappa, troviamo semplicemente un tracciato da andare a seguire ma senza nessuna indicazione. Sarei curioso di provare il 965 con le mappe e vedere come si visualizzano le mappe su un display AMOLED ma purtroppo non l'ho ancora fatto. Altra nuova funzione di questo 265, sempre per quanto riguarda lo schermo, è la funzione touch. Ora l'orologio è touchscreen, non rimangono le impronte delle dita quando lo utilizziamo, è abbastanza comodo, può tornare utile per muoversi tra le schermate, funziona bene, è fluido. Lo si può disattivare quando andiamo a fare un'attività così che possiamo evitare che l'attività si stoppi, possa cambiare il quadrante o chissà che. E' già impostata di serie questa funzione che si può bloccare, volendo naturalmente la si può attivare il touch anche durante l'attività. Quindi in generale questa funzione touch l'abbiamo vista implementare su tanti orologi di casa Garmin, è arrivata anche su questo 265. Poi utilità o no, questo sta a noi deciderlo, in questo nuovo 265 c'è. La domanda numero uno che so che state per farmi è, bello lo schermo ok, ma la batteria? E la batteria naturalmente è andata a scendere. Secondo i miei test, questo orologio consuma all'incirca il 5-6% utilizzando solo GPS quando andiamo a registrare un'attività. Quindi possiamo dire che dura tra le 18-20 ore utilizzandolo solo come GPS. A questo punto possiamo dire che sono vi eritieri le 20 ore che dice Garmin, però naturalmente la batteria è andata a scendere rispetto al modello precedente e sulla versione da 42 mm è ancora meno. Secondo me ci può anche stare una batteria così, perché comunque è un orologio pensato per chi magari fa delle maratone, delle corse abbastanza brevi. Non è pensato naturalmente per chi va a fare gare di ultradistanza e via dicendo. Quindi comunque una batteria del genere ci può stare e se lo utilizziamo con un utilizzo diciamo un pochino più normale, quindi magari un tot di uscite alla settimana, un utilizzo come smartwatch, arriviamo secondo me ad utilizzarlo per 9-10 giorni e poi va ricaricato. Altra cosa nuova è il case. Troviamo un case che è stato studiato in modo diverso. Deve ospitare questo schermo da 1.3 pollici. Il case è stato un pochino riprogettato, sono stati riprogettati i tasti da andare a premere per avviare l'attività. Non sono più in materiale similmetallico, ma sono diventati in plastica. Sono molto meno spessi, diciamo che c'è molto meno rilievo e questo ogni tanto tende un po' a far perdere anche il tatto di dove è il tasto. Però comunque i tasti sono sempre gli stessi e hanno sempre le stesse identiche funzioni. Mi piace il tasto, quello per avviare l'attività, che in questo caso ci hanno messo la scritta RUN, molto carina del colore del cinturino e diciamo che sì, un pochino è cambiato anche la parte esterna. Quella che però non è cambiata è l'utilizzabilità di questo orologio. Rimane piccolino, rimane sempre utilizzabile giorno e notte. Diciamo che queste dimensioni ridotte del Forerunner sicuramente rimangono e continuano a me personalmente a farmelo amare. Continuando a parlare del case esterno, vi parlo anche del cinturino. È un pochino elastico. Io ce l'ho in questa versione bianca, che secondo me è la più bella di tutte, con il cinturino all'interno color blu. Esistono anche altri colori, in questo caso Garmin non si è tanto sbizzarrita perché abbiamo tre colori per la versione da 46 e tre per la versione da 42. Però se ne volete comunque un orologio sobrio ma carino, secondo me questa versione bianca è la migliore. Altra cosa che abbiamo su questo 265 è la possibilità di ascoltare la musica. È già presente di serie sia su 42 mm che su 46, abbiamo all'interno 8 GB per poterla ascoltare. Funziona bene, lavora bene, mi piacciono questi 8 GB che siano messi su entrambi i modelli perché molte volte Garmin cosa fa? Mette magari un orologio music o uno music solo per alzare il prezzo. Quindi bene che sia la possibilità music su entrambi i modelli. Arriviamo dunque alla conclusione di questo video, arriviamo alla domanda fatidica. Vale la pena spendere 500 euro per questo nuovo Forerunner 265 con lo schermo AMOLED? La risposta naturalmente è dipende. Secondo me vale la pena se proprio amate il display AMOLED. Vi assicuro che passare da un display transreflective come S255 ad uno AMOLED la differenza si sente. Secondo me però la differenza maggiore la si può sentire quando abbiamo delle mappe. Quando magari abbiamo un qualcosa a visualizzare che ha bisogno di una certa qualità dello schermo. Ho messo un orologio così, base di gamma, dove non abbiamo davvero la possibilità di visualizzare delle mappe, eccetera. Sì va bene le animazioni, va bene tutte le cose carine ma in sostanza la miglioria è proprio estetica. Cioè non dà quel funzionamento in più se non proprio a livello estetico. Anzi se proprio vogliamo vederlo i riflessi sono aumentati tanto quindi dal punto di vista dell'utilizzabilità all'esterno potremmo dire che è quasi peggiorato. Se vi interessano le funzioni da sport watch, quindi tenere monitorato e tutte le attività, tutto quello che sappiamo di Garmin, andate tranquillamente sul 255 perché sono veramente identici. Se invece questi schermi AMOLED vi piacciono, vi piace la loro risoluzione, eccetera, allora ragazzi compratevi davvero un 265 perché comunque lo schermo AMOLED a livello estetico fa la differenza. Detto ciò io spero di essere stato esaurito in esaustivo, spero di aver risolto i vostri dubbi se prendere un 255 o un 265 e ragazzi noi ci vediamo alla prossima recensione. Ciao!